Lei oggi ha detto, offrendo il panettone a Palazzo Chigi, che si augura di mangiarlo anche alla fine del 2014, cioè al prossimo Natale. Chi è che le dà questo ottimismo? No, guardi, poi porta anche male. Io mi limito, siccome sono stati in tantissimi che hanno lavorato perché non mangiassimo il panettone quest'anno, mi sono limitato e mi limito a dire che il panettone quest'anno l'abbiamo mangiato. È una battuta ovviamente legata al fatto che il lavoro di quest'anno è stato travagliato, in tanti hanno lavorato perché il governo cadesse e abbiamo mangiato il panettone, appunto. Era buono. Vedremo poi quello dell'anno prossimo. Mettiamola così. Invitiamo tutti a mangiare i panettoni del carcere di Pablo. Se volesse del buon panettone... Pandoro e panettone, sì.